Luca Vassalli esce venerdì The Red Line, questa nuova serie, intanto come nasce l'idea appunto di questa serie e di cosa tratta? Sì, esce venerdì, è una serie sostanzialmente che unisce l'intrattenimento alla narrazione di tipo documentaristico. L'idea è nata da me e dalla collaborazione con Enzo Pierucci che praticamente ne ha seguito tutto lo sviluppo. Siamo arrivati a confezionare sei puntate che saranno disponibili online sul nostro canale YouTube dalla durata di circa mezz'ora, dove ad ogni puntata andiamo praticamente ad analizzare, approfondire una figura di rilievo del panorama crime, nello specifico un serial killer, fornendo appunto una narrazione che possa essere sia interessante ma anche attinente alla realtà. In che modo vengono raccontate le vite e anche i fatti commessi da questi serial killer? Anzitutto il nostro intento è stato quello di ricreare in maniera onesta quelli che sono gli accaduti storicamente verificati a questi personaggi senza l'intento di romanzare la narrazione. Ci siamo voluti avvalere poi del panorama locale, del comprensorio, siamo andati a girare in luoghi come Alfagedo, alla Valle del Marangone, perché ci fornivano appunto un panorama abbastanza rustico, rurale, che è incontaminato, che abbiamo trovato ideale per girare appunto alcune scene. Tu sei stato il protagonista tra l'altro della prima puntata, come è stato insomma interpretare Ted Bundy? Sì, è stato sicuramente divertente perché comunque è un argomento affascinante che desta curiosità nelle persone. Nonostante appunto ci tenga a sottolineare abbiamo voluto mantenere un atteggiamento molto imparziale e neutro e neutrale onde evitare di enfatizzare argomenti molto sensibili e suscettibili. È stato divertente perché chiaramente mi sono immedesimato nei panni di un personaggio particolare, molto particolare, dalla storia curiosa. Comunque è un intellettuale che nascondeva delle tare evidenti nella propria personalità. Torniamo alla serie, come sarà possibile appunto vederla e quando usciranno le puntate? Sì, le puntate avranno una cadenza settimanale e sarà possibile fruirne gratuitamente. Chiaramente sul nostro canale YouTube si chiama The Red Line e saranno tutte pubblicate lì.